Buongiorno ragazzi, si consideri la circonferenza di equazione x quadro più ax più y quadro più by uguale a c. Sotto quale condizione l'origine degli assi si trova all'interno della nostra circonferenza? Per c maggiore di 0, per a quadro più b quadro maggiore di c, per a quadro più b quadro minore di c, per a quadro più b quadro maggiore di 4c, oppure a quadro più b quadro minore di 4c? Vediamo insieme la nostra soluzione. Riscriviamo qui la circonferenza e sistemiamo l'equazione per mettere in evidenza il centro e il raggio. Ci siete ragazzi? Quindi mettiamo da una parte i termini che hanno la x, dall'altra i termini senza x ma con la y, e dall'altra parte, oppure portato anche a sinistra, il nostro termine noto. Qui cerchiamo di aggiustare la cosa e di ottenere un quadrato, quindi dobbiamo aggiungere il quadrato del termine che insieme a x mi dà come doppio prodotto a x. Quindi sicuramente manca un a quadro fratto 4. Nella seconda parentesi ci manca un b quadro fratto 4. Ma noi abbiamo aggiunto questi due termini e dobbiamo aggiungerli anche dall'altra parte per non alterare l'equazione. Quindi abbiamo un uguale a c più a quadro fratto 4 più b quadro fratto 4. Ricostruiamo quindi il nostro quadrato, quindi x più a mezzi al quadrato più y più b mezzi al quadrato uguale alla quantità che abbiamo a destra dell'uguale, c più a quadro fratto 4 più b quadro fratto 4. Quindi da qui possiamo dire che il centro della nostra circonferenza ha coordinate meno a mezzi meno b mezzi e il nostro raggio non è altro che c più le altre due quantità tutto sotto ovviamente radice. Affinché questo rappresenti una circonferenza il raggio deve essere necessariamente maggiore di zero. Quindi abbiamo che questa quantità deve essere necessariamente positiva. Questa condizione deve essere verificata, quindi teniamola un attimino da parte. E adesso cerchiamo di capire come fare a garantire che l'origine stia all'interno della circonferenza. Se noi vogliamo che questo avvenga facciamo un piccolo disegnino. Significa che il centro della circonferenza è questo. Se O appartiene significa che la distanza OC deve essere minore del raggio. Ci siete ragazzi? Questa è una condizione assolutamente necessaria e sufficiente. Calcoliamo quindi la distanza CO. Prendiamo che CO al quadrato deve essere minore di R quadro, così eleviamo direttamente. Non abbiamo radici in mezzo ai piedi, quindi abbiamo 0 più a mezzi al quadrato più 0 più b mezzi al quadrato deve essere minore del raggio al quadrato. Quindi abbiamo A al quadrato fratto 4 più b al quadrato fratto 4 minore del centro che abbiamo visto prima. Qui già a colpo d'occhio vedete che si semplifica sicuramente qualcosa. Ci rimane che C necessariamente deve essere maggiore di 0. Verifichiamo che con questa condizione anche il raggio risulta positivo. Quindi possiamo dire che la risposta esatta è la A. Spero che sia tutto chiaro. Ci vediamo domani. Buona serata.